Una vittoria importantissima, un 3-0 che ha dato tantissimi segnali a tutte le squadre della classifica. Firenze di fatto in partita solo in quel secondo set, una vera e propria maratona. Quali sono i tuoi commenti di questa gara? Sicuramente faccio i complimenti a tutta la mia squadra perché dopo una giornata molto complicata ci stiamo comportando veramente bene al ritorno ed è merito di tutte quante. Quindi voglio fare un gran complimento a tutta la squadra, a staff, a tutti quanti. In secondo luogo ovviamente Firenze era un po' difficitaria stasera perché le mancava ovviamente Ishikawa che è un punto importante per loro e noi siamo state brave a concretizzare il risultato. Servono i punti a noi perché dobbiamo allontanarci da quella maledetta zona retrocessione e l'abbiamo fatto, quindi obiettivo raggiunto, pensiamo alla prossima. Grazie e congratulazioni. Grazie mille.